Clonate migliaia di carte Bancomat all'aeroporto Marco Polo di Tessera, con la solita tecnica dello skimmer, cioè la telecamera posizionata sulla tastiera in cui si digita il PIN. La coppia di ladri, entrambi di origine bulgara, era riuscita a clonare e rubare i codici segreti anche negli scali aeroportuali di Roma e di Milano, sempre nei Bancomat installati nella zona degli arrivi, riuscendo così a rubare i soldi dei tantissimi turisti in transito, a scoprire la banda dei truffatori e gli agenti della polizia di frontiere giudiziaria che dopo numerosi inseguimenti e appostamenti hanno fatto eruzione nel covo dei due ladri in un appartamento romano, con i due bulgari ora agli arresti. Solo il tempestivo intervento dei poliziotti ha impedito che la molle di dati carpiti fruttasse un introito di svariati milioni di euro. Grazie a tutti.